Viviamo in un mondo pieno di menzogne, iniettate continuamente dentro di noi da livelli superiori, da coloro che sono i controllori del mondo. È più facile ingannare qualcuno che convincerlo che è stato ingannato, specialmente quando è inconsapevolmente soggiogato dalla paura. Se le fondamenta della tua fede riguardo al mondo è che sei su una sfrecciante pera rotante a forma di globo d'acqua che vola attraverso il vuoto di uno spazio infinito, allora non saprai mai chi sei, dove sei e cosa veramente sei. Ti sentirai perso di insignificante senza sapere che invece sei al centro della creazione e non su un granello di polvere sperduto in un universo in continua espansione. Con questo credo possono convincerti di qualsiasi cosa. Per svegliarti devi iniziare con le fondamenta del tuo vero mondo e da lì riuscirai a vedere ben oltre alla immaginaria curvatura. Grazie a tutti.